Buonasera a tutti e grazie di essere qui. C'è un luogo in questa città che da 31 anni resta interdetto ai riti della retorica di Stato e alle passerelle dei politici. Questo luogo è Via D'Amelio. Tra 31 anni lo Stato e i suoi rappresentanti, in occasione della commemorazione del 19 luglio, non hanno l'animo di celebrare i loro riti recandosi in quella via e se ne tengono prudentemente lontani, defilandosi i luoghi più appartati inaccessibili dalla gente comune. Si tratta di una tacita convenzione, di una consuetudine ormai consolidata e quasi rimossa nella coscienza collettiva. Rimossa perché questa prolungata, forzata, assenza dei rappresentanti dello Stato dal luogo della strage è un fatto perturbante. Sta a significare che lo Stato non può presentarsi in quel luogo con la coscienza a posto, con la coscienza di poter escludere con certezza la compromissione nell'ideazione e nell'esecuzione di quella strage di apparati interni allo Stato, con la coscienza di avere fatto tutto il possibile per accertare l'identità di mandanti e di complici esterni. E quindi i suoi rappresentanti si defilano, si sottraggono al pericolo e al disagio di pubblica contestazione. Questa frattura tra palazzo e piazza, tra luoghi del potere costituito e popolo, si è manifestata nei giorni immediatamente successiva all'esecuzione della strage in occasione di un evento drammatico che non ha precedenti nella storia del nostro paese e di cui oggi nel filmato appena proiettato avete visto qualche frammento. Mi riferisco a quanto accadde il 21 luglio del 1992, in occasione della celebrazione dei funerali dei cinque agenti della scorta di Paolo Borsellino che erano stati trucidati con lui nella strage del 19 luglio, Agostino Catalano, Emanuele Loi, Vincenzo Limuli, Walter Redi Cosine e Claudio Traina. Quel giorno una folla di circa diecimila persone che tracimavano il sagrato antistante della cattedrale di Palermo iniziò a gridare ripetutamente nei confronti delle pubbliche autorità che si trovavano all'interno della chiesa la frase fuori la mafia dalla chiesa. E quando il Presidente della Repubblica e il capo della polizia uscirono dalla chiesa, la folla ruppe gli argini del cordone di polizia e si avventò contro di loro, circondandoli in modo quasi minaccioso, mentre si levava il grido assassini. furono scene drammatiche di panico, esitamente il peggio. Dunque, quel giorno accadde che il popolo, invece di stringersi solidale intorno alle figure simbolo dello Stato, il Presidente della Repubblica a capo della polizia, invece di riconoscersi e di rispencarsi in quei simboli, li accusava di essere l'emblema di uno Stato in cui non ci si poteva riconoscere. Non solo perché non aveva saputo o voluto proteggere Paolo Borsellino, nonostante fosse una morte annunciata, ma anche perché, gridava la folla, la mafia stava dentro la chiesa, cioè dentro lo Stato. Espressione cruda e semplificatrice che tuttavia coglieva un nucleo profondo di verità, cioè che il male non stava tutto fuori dallo Stato, non albergava soltanto nei cuori malati di personaggi come Rina e simili, ma stava anche dentro lo Stato. Si annidava nelle pieghe segrete dello Stato, corrodendolo dall'interno. A distanza di 31 anni dobbiamo dolorosamente riconoscere che quel grido, assassini, che si levò dal cuore della folla quel giorno, quel grido che accusava una parte dello Stato di essere complice della strage. Quel grido che allora sembrò incomprensibile, inconsulto e irrazionale, conteneva un seme scandaloso e profondo di verità. Abbiamo tutti gli elementi oggi per poter ammettere la tragica verità che la strage via d'Amelio non fu solo una strage di mafia, ma una strage che chiama in causa componenti interni dello Stato. Componenti che hanno occupato posizioni strategiche, tali da essere in grado di operare ripetutamente e continuativamente nel tempo per depistare le indagini e impedire così che si potesse accertare la responsabilità di livelli superiori a quelli degli esecutori. Lo hanno fatto nell'immediatezza, facendo sparire con straordinario tempismo la gente rossa, tempismo possibile solo perché era una conoscenza in anticipo del luogo e del tempo della strage, quindi erano complici. Hanno continuato a farlo, operando a distanza negli anni, mediante la costruzione al tavolino, due anni dopo, nel 1994, di falsi collaboratori di giustizia, con una complessa orchestrazione che ha visto interagire di concerto a vertici della polizia e a vertici dei servizi segreti. Hanno proseguito nel tempo con un'inquietante continuità, quasi sì nei nostri giorni, con un'azione depistante, una presenza inquinante che si è mossa nell'ombra, dietro le quinte, che ci fa comprendere appunto come la strage di Via D'Amelio sia ancora una partita aperta, come la strage sia ancora tra di noi, come un vulcano che è sempre spento ma che in realtà nelle sue viscere conserva un magma infuocato che si teme che possa esplodere, travolgendo con le sue verità travolgenti non soltanto destini individuali ma alcuni contraforti della Repubblica. Alcuni di questi tentativi di depistaggio che si sono ripetuti nel tempo sono rimasti solo nella conoscenza dei magistrati che hanno fatto vendaggi. Altri invece hanno occupato la ribaltica mediatica nazionale, come ad esempio l'insidiosissimo tentativo di depistaggio posto in essere nel 2021 dal collaboratore di giustizia Maurizio Avola, che era congegnato in modo tale da far credere che nessun esterno avesse partecipato all'esecuzione della strage. Oltre alla continuità nel tempo dei depistaggi c'è un'altra inquietante continuità che ci deve fare riflettere. La continuità nel tempo dei silenzi, di coloro che conoscono i segreti della strage via d'Amelio, della strage di Capaci, delle strage di Firenze, di Milano e di Roma e che continuano a tacere. Quando i segreti durano così a lungo nel tempo significa che su di essi è impresso il sigillo del potere. Significa che coloro che conoscono questi segreti, e tra essi in primo luogo i boss estregisti condannati all'argastolo, ritengono che una valutazione realistica dei rapporti di forza non consente di rompere il silenzio. I boss conoscono la realtà del potere molto meglio di quanto la conosca io voi o i cittadini normali. Sanno che la realtà dello Stato è molto complessa. Sanno che accanto allo Stato visibile e legale convive un altro Stato profondo. Una forza con la quale essi devono fare i conti. lo Stato è il magistrato che entra a interrogarti, che ti invita a collaborare, ma lo Stato è anche l'uomo dei servizi o degli apparati che entra subito dopo nello stesso carcere e si siede direnza a te e dice come sta la famiglia e ti ha già lanciato un messaggio. Lo Stato erano anche gli uomini che hanno sottratto la gente di Borsellino. I mafiosi all'argastolo sanno che lo Stato è anche quello che ti può fare trovare impiccato nella tua cella al 41 bis, come è accaduto a Antonino Gioè nel carcere in Ribibbia, poco prima che secondo vere testimonianze si accingesse a collaborare, rivelando le verità sconvolgenti dietro le stragi che conosceva. I mafiosi ricordano quello che è accaduto al capo mafia Luigi Lardo, assassinato pochi giorni prima che iniziasse a collaborare con i magistrati e quelli aveva anticipato che avrebbe rivelato il coinvolgimento di uomini dello Stato in omicidi e stragi. I boss stragisti condannati all'argastolo sanno che i segreti scottanti di cui sono depositati sono una lama a doppio taglio, dipende da come li gestisci. Puoi morire se non li sai mantenere, ma puoi essere premiato. Con l'uscita dal carcere, mediante l'abolizione della norma sull'argastolo stativo o l'arrevoca del 41 bis, se sai tenere la bocca chiusa, hai fiducia nel tempo che saranno mantenute le promesse fatte da complici e vertici del potere. E il tempo ha dato ragione a quella che avevamo fiducia. L'approvazione della legge sulla riforma dell'argastolo stativo che consente, condannata all'argastolo per le stragi di mafia del 92-93, di uscire dal carcere senza collaborare, cioè in sostanza con la semplice dissociazione, senza neppure l'obbligo di motivare le ragioni del rifiuto a collaborare, assume il significato inequivocabile di una rinuncia dello Stato a conoscere i segreti delle stragi del 92-93. Assume il significato inequivocabile di un'autorizzazione statale al silenzio, di una legittimazione e normalizzazione della cultura dell'omertà, pilastro della cultura mafiosa. Dunque, la strage di Via D'Amelio è ancora tra noi, con i suoi inquietanti nodi irrisolti, le sue verità indicibili, e quell'urlo della folla del 21 luglio 92, Assessini, continua nella sua crudezza a risuonare nell'aria e attraverso al tempo e giunge potente sino a noi, oggi, qui. E quel grido si placherà solo se e quando sapremo la verità che sino ad oggi ci è stata negata. Così pure non riusciranno a spegnere l'altro grido della folla, quel giorno del 21 luglio 92, fuori la mafia dallo Stato. Un grido che è risunato anche quest'anno, il 23 maggio del 2023, rinnovato dai partecipanti al corteo organizzato dalle associazioni giovanili e studentesche, dalla CGL e da tante altre sighe con l'adesione antimafia 2000, cittadini, il quale è stato vietato a colpi di manganello come se fossero pericolosi e rivoltosi, di poter accedere alla via Notar Bartolo e giungere all'albero Falcone perché si temeva potessero in qualche modo turbare l'esibizione delle pubbliche autorità sul palco di Renza all'albero Falcone, sul quale era stato invitato a salire il sindaco di Palermo eletta a quella carica con l'assist di Marcello Dell'Utri e Salvatore Cuffaro. Abbiamo così ufficializzato che esistono due antimafie. Da una parte un'antimafia autorizzata che è il timbro governativo che continua a raccontare al pubblico una mafia da corriere dei piccoli, una mafia cioè costituita solo dai soliti brutti, sporchi e cattivi, personaggi come Rine e Provenzano, indicati come unici responsabili del male di mafia e come unici artefici delle stregge di Capace e di Vedamelio, una mafia che si ripete ormai è stata sconfitta a partire dal passato. Un'antimafia innocua che mette tutto insieme appassionatamente e che non crea alcuna imbarazza a personaggi politici eletti alla carica di sindaco o di presidente della regione grazie al plagio di personaggi come Dell'Utri e Cuffaro. Dall'altro abbiamo un'antimafia popolare, non autorizzata, dei disobbedienti che quindi deve essere messa a tacere e manganellata perché questa storiella, questa falsificazione della verità, della storia, noi non ce la beviamo. E con il grido fuori dalla mafia allo Stato rinnovato il 23 maggio 2023 continuiamo a ricordare una verità che nessun governo, nessun manganello, nessuna carica di polizia potrà cancellare perché scritta e accertata con decine e decine di sentenze, scritte grazie al sangue dei nostri martiri. La verità è che la mafia è stata ed è dentro lo Stato e ha avuto i volti di Presidente del Consiglio, deputati, senatori, sottosegretari di Stato, Presidente della Regione, assessori regionali, capi dei servizi segreti, capi della polizia e tanti altri sepolcri imbiancati che con la mafia e grazie alla mafia hanno costruito carriere politiche e fortuna economica. La verità accertata con le sentenze, è che Riina, i Provenzano e Matteo Messia Denaro sarebbero rimasti volgari criminali assicurate alle patrie calerie in breve tempo senza questo livello di protezione. La verità è che Riina e altri personaggi di tal fatta sono stati usati per le stragi e condannati non solo all'ergastolo ma anche al silenzio sui loro complici eccellenti. Quest'anno, ancora di più che in tutti gli altri anni precedenti, lo Stato non potrà presentarsi senza imbarazzo in via d'Amelio con una delle sue massime espressioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Il Presidente Meloni ha più volte ripetuto la propria ammirazione per Paolo Borsellino dichiarando che proprio la strage di via d'Amelio era stato l'evento che l'aveva indotto a iniziare la propria attività politica. Ebbene è evidente che la Meloni deve essere caduta in un equivoco oppure fa anche esse esercizio di vuota retorica sul sangue dei nostri martiri perché non è possibile affermare ed ispirare la propria azione ai valori di legalità di Paolo Borsellino e poi dichiarare il lutto nazionale con un atto di imperio politico totalmente discrezionale per la morte di Silvio Berlusconi. Non è possibile dichiararsi ammiratrice di Paolo e nello stesso tempo indicare a tutti gli italiani e al mondo intero come esempio da seguire, come modello di virtù repubblicane, un uomo come Berlusconi che è stato l'antitesi vivente di tutti i valori ai quali Paolo ha dedicato la propria esistenza e ha sacrificato la propria vita. Un uomo come Berlusconi che prima da imprenditore con la mafia ha stretto accordi, ha deciso di convivere e poi da politico ha portato la mafia dentro lo Stato facendo leggere al Senato Marcello Dell'Udri, facendo nominare sottosegretario gli interni il senatore Antonio Dalì, protettore della Mefe di Trapani, facendo nominare sottosegretario di Stato Nicola Cosentino, referente della Camorra, portando in Parlamento Amadeo Mattacino con l'uso con l'entrancheta. Abbia rispetto per i nostri morti Presidente Miloni, noi siamo le nostre scelte, lei ha scelto da che parte stare, scelte che dimostrano che Paolo Borsellino non le appartiene. Sul fronte dell'accertamento della verità sulle stragi, dopo l'ultima legge sull'argasso l'ostativo, come ho detto siamo in una situazione di stallo. Vi sono però alcuni fatti nuovi che a saperne cogliere il profondo significato aprono la possibilità di nuovi scenari e che in ogni caso offrono importanti chiavi lettura per comprendere le causali delle stragi del 92 e del 93. Ho iniziato il mio intervento citando Via D'Amelio come luogo nel quale le pubbliche autorità hanno pudore e imbarazzo a recarsi per i motivi che ho accennato. C'è un altro luogo simile in Italia nel quale le pubbliche autorità vivono pure momenti di grande imbarazzo e la città di Bologna dove ogni 2 agosto si celebra l'anniversario di una strage che causò 85 morti e 200 feriti nel 1980. Anche la strage di Bologna come quella di Via D'Amelio è una strage di Stato, una strage cioè alla quale hanno preso parte componenti rilevanti dello Stato. La magistratura di Bologna ha accertato che quella strage fu eseguita da esponenti di formazione neofascista su un mandato di Licio Gelli, vertice dell'AP2, a cui appartenono tutti i capi di servizi segreti del tempo e che fu organizzata da Umberto Federico D'Amato, uomo potentissimo e ai vertici dello Stato, campo dell'ufficio affari riservate il ministro dell'interno e il referente della CIA in Italia. Ci ho detto gli esiti nelle ultime indagini e le sentenze più recenti hanno messo in luce vari fattori che dimostrano che esistono importanti vasi comunicanti tra la strage di Bologna e le strage del 92 e il 93, tanto da potersi ipotizzare che siano due parti della stessa tragica storia. Un primo vaso comunicante sono i depistaggi di Stato. Le indagini sulla strage di Bologna sono state segnate da gravissime e ripetute azioni di depistaggio poste in essere da uomini e vertici di servizi segreti, il generale musumece e il Belmonte, che per questo motivo sono stati condannati con sentenze definitive unitamente a Francesco Pazienza, altro importante agento segreto collegato con i servizi americani. I depistaggi realizzati per la strage via D'Amelio, così come quelli realizzati per la strage e i capaci sembrano la replica a distanza di anni dello stesso protocollo operativo di quelli che sono stati fatti a Bologna. Un secondo vaso comunicante sono Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, che sono stati condannati come esecutore della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Chi sono Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, due esponenti della destra eversiva, che furono individuati da Giovanni Falcone come coloro che avevano eseguito l'omicidio a Palermo pochi mesi prima della strage di Bologna, il 6 gennaio del 1980, di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana, che si apprestava a proiettarsi sullo scenario nazionale, rilanciando nel congresso della democrazia cristiana, che doveva svolgersi il febbraio 1980, la linea politica del compromesso storico dopo l'omicidio di Aldo Moro. Linea politica estremamente avversata dagli stessi soggetti che si resero responsabili pochi mesi dopo di quello stesso anno dell'organizzazione della strage di Bologna del 2 agosto e dei successivi depistaggi, e cioè Licio Gelli e Umberto Federico D'Amato, i quali, secondo la sentenza della Corte di Assisi di Bologna del 5 aprile 2023, utilizzavano come killer Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini ed altri esponenti della destra inversiva garantendo loro fiumi di denaro e poi impurità. Un terzo robusto canale di collegamento tra Bologna e Palermo è venuto alla luce con la condanna, come ulteriore esecutore della strage di Bologna di Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale, uomo dei servizi segreti, il quale fu in missione in Sicilia quasi ininterrottamente nel corso del 1992, nello stesso periodo in cui era presente in Sicilia Stefano delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale e in collegamento con Umberto Federico D'Amato. È stato accertato che Paolo Bellini dialogò ripetutamente in quei mesi con Antonino Gioè, esecutore della strage di Capaci, a sua volta uomo cerniera tra la mafia e i servizi segreti, al quale, come ha dichiarato Giovanni Brusca, suggerì di alzare il livello dello scontro con lo Stato effettuando attentati contro i beni artistici nazionali. Nella motivazione della sentenza di condanna di Cavallini come esecutore della strage di Bologna, la Corte di Assisi di Bologna ha dedicato quasi cento pagine alla rivisitazione dell'omicidio a Mattarella, giungendo alla conclusione, anche alla luce di nuova acquisizione probatoria, che Giovanni Falcone aveva ragione nell'avere individuato Fieravanti e Cavallini come esecutore dell'omicidio Mattarella, ed evidenziando le connessioni che c'erano tra quell'omicidio e la strage di Bologna. Mi risulta personalmente che Falcone era fermamente intenzionato a riprendere quelle indagini se fosse stato nominato procuratore nazionale antimafia. E fu proprio questo il motivo principale dello scontro col procuratore Gianmanco. Nogliene dietro il tempo, massagrandolo il 23 maggio a Capaci. E la stessa sorte riservarono a Paolo Borsellino, affrettandosi, prima che avesse il tempo di dichiarare alla procura di Caltanessetta quanto aveva preso da Falcone e da alcune fonti, alcune le abbiamo scoperte recentemente queste fonti, che oltre a rivelargli le collusioni di Bruno Contrada con la mafia, l'avevano informato. E l'avete visto nel filmato, che si erano svolte delle riunioni segretissime nella provincia di Enna, tra alcuni supercapi di Cosa Nostra, nel corso delle quali era stato messo a punto un complesso piano stragista di destabilizzazione politica, il cui primo atto sarebbe stato la strage di Capaci, e che vedeva la partecipazione a questo piano insieme a Cosa Nostra, degli stessi soggetti che avevano gestito la strategia della tensione negli anni 70-80, la massoria deviata, la destra emersiva, i servizi segreti. Circostanze che Paolo aveva notato nella sua agenda rossa, un'agenda che quindi doveva sparire, prima che finisse nelle mani dei magistrati, i quali seguendo quel filo d'Arianna che usciva da quelle pagine, da Palermo potevano risalire passo dopo passo fino a Bologna, facendo così uscire dagli armadi tanti scheleti della Prima Repubblica, che invece sono transitati nella seconda, contribuendo a sostenerne le fondamente. Le indagini che abbiamo svolto alla Procura di Palermo nell'ambito del procedimento di sistemi criminali hanno pienamente riscontrato che dietro le stragi del 92-93 si è mosso insieme alla mafia un complesso sistema criminale. Lo stesso pool di sistemi criminali che avevano organizzato la strategia della tensione negli anni 70-80, la stragi di Bologna, massomia deviata, destra eversiva neofascista, servizi segreti. Qual era l'interesse che univa costoro e i mafiosi? Tutti questi che avevano fatto le stragi a Bologna, a Brescia, avevano fatto omicidi, avevano goduto di una scudo stellare di protezione da parte del sistema di potere della Prima Repubblica e da parte degli americani. Quando cade il muro di Berlino e quel sistema comincia a sfarinarsi e non riesce più a garantire protezione e gli Stati Uniti non sono più interessati, si trovano in una situazione drammatica perché si viene a creare un vuoto di potere e si ritiene che nelle elezioni del 1994 che ci saranno chi vincerà le elezioni sarà un'alleanza tra la sinistra della democrazia cristiana, erede della linea in questo modo e l'ex PC, il PDS, che realizzeranno il compromesso storico e ai vertici dello Stato impostazioni strategiche, ministro della giustizia, ministro degli interni, capo della polizia, procuratore nazionale antimafia, andranno uomini come Falcone, come Di Gennaro, come Luciano ma Violante e a quel punto si regoleranno tutti i conti del passato, usciranno tutti gli scherzi all'armadio e fioccheranno ergastoli per tutti, non solo per i mafiosi ma anche per i servizi segreti, anche per i massoni che hanno fatto le stragi e quindi mettono insieme le forze. A Cosa Nostra viene affidato il compito di eseguire le stragi come braccio militare ma nei tempi e nei luoghi indicati dagli specialisti della strategia dell'attenzione in modo che le stragi fossero finalizzate a raggiungere l'obiettivo che dovevano raggiungere e cioè impedire che potesse arrivare al potere un governo delle sinistre e nello stesso tempo preparare il terreno per la discesa in campo di un nuovo soggetto politico. Questo nuovo soggetto politico sarà poi Forza Italia. Così come previsto il piano prende l'avvio in Sicilia con la strage di Capaci che elimina quello che viene ritenuto il più pericoloso nemico non solo della mafia ma del sistema criminale Falcone perché aveva le chiavi per capire quello che stava succedendo e poi prosegue con la strage di Via D'Amelio che subisce un'accelerazione perché Paolo Borsellino grazie a quello che aveva detto Falcone e grazie alle confidenze che aveva avuto da Leonardo Messina che gli aveva rivelato le riunioni segrete che si erano svolte ad Enna da altri collaboratori come Alberto Lucicero era venuto a conoscenza aveva capito cosa stava per accadere. Se l'avesse dichiarato a Caltanissetta il piano sarebbe fallito e dopo le strage di Capaci e di Via D'Amelio parte la seconda parte del piano. Non bastava fare le strage in Sicilia. Per quanto fossero eventi drammatici un milanese, un toscano, sino a quando tutto avveniva in Sicilia non si sentivano in pericolo. E quindi bisognava portare le stragi al nord in modo da creare un clima di insicurezza e di panico in tutto il paese. E le stragi dovevano essere anonime in modo che non si capissa chi le faceva. E le stragi cominciano quando? Cominciano dopo il 28 aprile del 1993. Perché? Che succede quel giorno? Succede che si insedia il governo Ciampi. E qual è la novità del governo Ciampi? Per la prima volta nella storia della Repubblica entrano nel governo tre ministri comunisti. Sembra proprio l'anticipazione di quello che si prepara. Le stragi subiscono accelerazione quando si viene a conoscenza che c'è un accordo segreto che è stato siglato da Occhetto, che recentemente lo ha rivelato, segretario del Partito Democratico di Sinistra, e Martin Azzoli, segretario della Democrazia Cristiana, che prevedeva per l'elezione del 1994 un'alleanza tra la sinistra DC e PDS con la presidenza del Consiglio che non sarebbe stata affidata a Occhetto per evitare di creare una mancanza di voto da parte di quelli che ancora avevano delle resistenze nei confronti dei comunisti, ma sarebbe stata affidata dalla presidenza del Consiglio a Carlo Azzeglio Ciampi. Le stragi cessano quando il risultato viene raggiunto, con la vittoria delle elezioni politiche del 1994 di Forza Italia, sulla quale Cosa Nostra e le entrancate fanno confuire i voti dell'organizzazione. nasce così la Seconda Repubblica, le cui fondamenta sono intrise del sangue di tante vintive innocenti. Le vittime delle stragi neofasciste alla stazione di Bologna, della Banca dell'Aericoltura di Milano, di Piazza della Loggia di Brescia, le vittime delle stragi politico-mafiose di Palermo, di via Giorgonfili a Firenze, di via Palestra a Milano, fondamenta intrise del sangue di tanti uomini dello Stato, magistrati esponenti alle forze di polizia, politici trucidati perché leali alla Costituzione e difensori della Repubblica Democratica e quindi considerati ostacoli da abbattere da poteri criminali nemici della democrazia che hanno potuto contare sulla complicità di tanti traditori dello Stato. Stasera vorrei idealmente ricordare tutti questi caduti insieme a Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuele Alloi, Vincenzo Limuti, Walter Reddico, Sine e Claudio Trina e concludere questo mio intervento dedicando a tutti loro le stesse parole che un grande padre della nostra Costituzione Piero Clamandrei dedicò il 7 agosto del 1947 in occasione di una solenne riunione del Parlamento ai caduti della lotta al nazifascismo che avevano sacrificato la propria vita per fare nascere la democrazia del nostro paese. Queste sono le sue parole dedicate ai caduti del nazifascismo. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere. Il grande lavoro che occorreva prestituire all'Italia della libertà e dignità di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile, quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte e la fede della democrazia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole. Assai poco, in verità, chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli e noi non li tradiremo. in verità, chiedono i nostri morti.